Hello guys, Koto here e bentornati in questo nuovo video di Tower of Fantasy. Finalmente hanno annunciato la global per questo gioco dopo che ha passato veramente ma veramente tantissime peripezie per arrivare fino a noi. Tower of Fantasy è un MMORPG open world sviluppato da Otta Studio e pubblicato da Perfect World. Per lungo tempo su questo gioco sono circolate voci abbastanza inesistenti riguardo a conflitti interni, sulla presunta tossicità di persone tossiche approdate sulla versione cinese di questo gioco, ritardando così la sua uscita global quando in realtà non è palesemente così. Semplicemente Tower of Fantasy non era pronto per uscire, l'hanno lasciato un po' troppo e hanno voluto prima di farlo uscire global fixare alcune cose, come per esempio quella cosa abbastanza seccante delle ulti che non partono. Ma appunto questa è una cosa che solo chi ha giocato veramente al gioco può sapere. Dopo questa piccola introduzione sappiate che tratteremo veramente tanto questo gioco, quindi nel caso vi dite qualsiasi informazione su di esso lasciate like e iscrivetevi nel caso non l'abbiamo ancora fatto. E appunto arriviamo al sodo, ovviamente vi lascio il link in descrizione ma andiamo a vedere questo form anche se è veramente molto facile da compilare. Allora ci chiederà su quale dispositivo vorremmo fare diciamo il beta test, possiamo scegliere tra iOS, Android e PC. Vi chiederà di inserire le spec dei vostri dispositivi, quindi qua ci chiederà la scheda video, qua ci chiederà il nostro processore e qua ci chiederà l'email dove diciamo contattarci in caso di risposta positiva al closed beta test. Andando in giù ci chiederà diciamo quali giochi abbiamo giocato e con quanta frequenza, per esempio Genshin Impact, WoW, Final Fantasy XIV, New World, Destiny 2, GTA V Online, tipo mai giocato, non giocato negli ultimi sei mesi, giocato casualmente negli ultimi sei mesi, uno della mia top 3 di giochi che ho giocato negli ultimi sei mesi. Quindi fate qua, mettete le spunte dove più vi aggrada e si vola. Numero 4 vi chiederanno quale dei seguenti è il vostro genere preferito di gioco, MMORPG, Open World, Action RPG, eccetera eccetera eccetera. Confermate qui il trattamento dei dati e fate submit e non vi resta che aspettare. In ogni caso sono veramente molto ma molto hypato per questo gioco, ho giocato veramente tanto nella sua versione cinese e non vedo veramente l'ora di poterci giocare senza lag perché ovviamente giocando dalla Cina è normale che io faccio un autoattacco e vedo il danno 3 secondi dopo. Quindi ragazzuoli ditemi che cosa ne pensate di Tower of Fantasy se non vedevate l'ora anche voi che uscisse e se farete l'applicazione alla Closed Beta oppure attenderete la release ufficiale. Per questo video è tutto, vi ricordo di lasciare like e iscrivervi nel caso non l'abbiate ancora fatto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Koto, au! Sous-titrage ST' 501